Siamo aperto con la notizia di cronaca dell'accoltellamento a termini. Ovviamente si riaccende la questione sicurezza e ne parliamo con il nostro ospite di oggi. Buongiorno e benvenuto al dottor Massimo Improta, primo dirigente della Polizia di Stato. Dicevamo, buongiorno a lei, dicevamo l'accoltellamento di ieri che arriva a poche settimane dal ferimento della turista 24enne israeliana. Che cosa succede? Allora, diciamo subito che i due episodi devono essere contestualizzati e dobbiamo andare a fare un'analisi profonda dei momenti che hanno spento sia il caso della ragazza israeliana sia l'accoltellamento del giovane cameriere che ha trovato tre coltellate date e sferrate dai tre marocchini che sono stati in poche ore individuati dalla Polizia di Stato. Ottimo lavoro del commissariato priminale, ottimo lavoro di squadra di Polizia giudiziaria. Questo però non significa che la percezione di sicurezza possa apparire al primo livello, appare tutt'altro invece. Ma noi siamo presenti, siamo presenti sul territorio e vorremmo che il cittadino ci percepisse molto di più rispetto a quello che in effetti veda. Si parla appunto di reati in calo, ma la percezione di insicurezza tra i cittadini è questo, è il vero allarme. Il problema è questo, la percezione è questa, ma io posso garantirvi che il calo dei reati c'è e soprattutto le forze dell'ordine che sono scese in campo già da anni sono presenti su una stazione termini che è sorvegliata speciale. È una sorvegliata speciale dai tempi del 2016 del secondo livello di allerta per l'antiterrorismo come punto di concentramento di 500.000 persone al giorno che transitano tra una stazione termini della capitale, treni che vengono a tutta Italia, transiti della metropolitana, capolinea degli autobus, parcheggi di scambio. Quindi è un microcosmo all'interno di una città che è già grande di suo, 1.300 km quadrati. E diceva appunto l'intensificazione dei controlli a termini sorvegliata speciale, un piano sicurezza che è stato rafforzato a metà dicembre, eppure è accaduto comunque. Allora io vorrei ricordare che l'episodio della ragazza israeliana è un episodio che abbiamo analizzato attraverso le telecamere, sembra completamente un'azione fatta, diciamo sferrata di proposito, ma da una persona non proprio compus sui. Cosa significa? Che non ha tentato di rapinarla, non ha tentato di fare nulla, la scelta quale vittima. La situazione della rapina dell'altra sera, se così è effettivamente il reato, ricade invece in una situazione totalmente differente. ricade in una zona della stazione Termini che è Via Giolitti, con locali aperti sulle 24 ore, con una concentrazione di persone che sono radicate su quel territorio, e quindi la presenza delle forze dell'ordine serve non solo per prevenire, ma serve anche per censire tutte quelle persone che lì gravitano e che non sono soggette a restrizione della libertà personale né ad azioni di natura amministrativa che possiamo applicare loro. Brevemente, che cosa si può fare per migliorare la sicurezza proprio alla stazione Termini e in generale in città? Senz'altro mantenere la visibilità e l'impegno massimo, così come in questo periodo, e soprattutto l'impegno delle forze dell'ordine a livello interforze, tra esercito di strade sicure, la polizia ferroviaria, la polizia di Stato, i carabinieri, i valdi di finanza, la polizia locale, è un'azione sinergica voluta ai massimi vertici del nostro ordinamento che non può prescindere da questa azione massiccia e presente sul territorio. Possiamo fare sicuramente di più, noi siamo presenti su tutte quante le strade, è chiaro che non possiamo avere un poliziotto, un carabiniere in ogni angolo o di fronte a ogni portone. È chiaro che noi però ci siamo perché la dimostrazione tangibile è che in 12 ore gli autori del fatto di sangue di domenica sera sono stati assicurati alla giustizia. Grazie al dottor Massimo Improta, primo dirigenza della Polizia di Stato, per essere stato nostro ospite.